Allarme rosso! È arrivato Slotter! È qui? Vuoi dire dietro a quella porta? E cosa vuole? Non lo so, ha solo detto di essere tuo amico. Questo è anche peggio? È quel tizio che ti ha quasi fatto uccidere un paio di anni fa. Sì, è stato un vero incubo. Ok, ora vado a sentire che cosa vuole. Gli spiegherò con molta calma, visto il soggetto, che non sono interessato. Non mi interessa qualunque cosa sia. Ehi, Sherlock! Quanto tempo, eh? Ehi, Slotter! Ehi, bello, come te la fassi? Se ci fosse una sparatoria starei alla grande. Già, qui purtroppo non c'è molto da sparare. Beh, è stato bello. Dovremmo vederci più spesso. Non avere fretta. Dobbiamo parlare di affari. Vieni. Che tipo di affari, esattamente? Non mi pare di avere mai avuto il piacere. No, niente convenevoli. Sono Martha Rogers, Richard Castle è mio figlio. E l'ultima volta che voi due vi siete frequentati ha dovuto prendere ansiolitici per più di un mese. Sta scherzando! Gli ho presi solo per una settimana. Sei proprio un mammone viziato, Sherlock. Ma non ti preoccupare. Quello che voglio proporti non è rischioso, te lo prometto. Di che si tratta? È un caso su cui sto indagando. Un furto inspiegabile in un super palazzo di Manhattan. Nel posto più sicuro di New York. Ne parlavano in televisione poco fa. Sì. A quanto pare sono riusciti a bypassare i vari sistemi di allarme e a rubare questa specie di microchip segreto. Ma io di tecnologia non ci capisco molto. Così ho deciso di chiederti aiuto. Non eri nella squadra anti-gang? Ah, lì era una noia. Adesso mi occupo di criminali con la C maiuscola. Grazie per aver pensato a me, ma vedi, il fatto è che la mia agenda è stracoma. Siamo pieni di lavoro. Siamo sommersi. Sì, sommersi. Ok. Non me lo farò ripetere. Ho capito. Beh, è stato bello rivederti. Volevo raccontarti qualche storia per il tuo prossimo libro. Come quando ho inseguito nelle fogne i sicari di un cartello colombiano per tre giorni. Vuol dire che sarà per un'altra volta. Ciao. Un cartello colombiano. Non farti tentare, Richard. Nelle fogne. Sloters! Aspetta! Va bene. Fantastico. Ok, dove andiamo? Lower side da un tizio che si chiama Victor Lee.